Questa scena che abbiamo appena visto, vediamo una stanza delle persone che parlano tra di loro e la prima cosa che si nota è che non c'è fiducia, ok? Tutti sospettano di tutti. La domanda che ti volevo fare, al giorno d'oggi il rap game è così? Domanda difficile? Ma secondo me non è proprio un covo di bisce, cominciamola così. Ok. A oggi ti faccio anche... visto che ormai agli occhi di alcuni sono mid school, forse qualcosa in più di mid school. Mi piacerebbe dire giovane veterano più che di old school, perché ci sono quelli più, no? Però sono mid school, quindi a oggi posso dirti anche che avendone viste tante, la... c'è, c'è di base ovviamente, un po' di competizione malsana, delle volte, di sfiducia, spesso magari anche con quelli che pensi essere intorno a te, le persone adatte a te e succede. Ok.